Fuori trevi, andiamo! Fuori trevi, andiamo! Fuori trevi, andiamo! I uomini vi hanno trovato mezzo annegato. Non sapevo chi foste, ma era chiaro che cosa eravate. Così vi ho affidato ai Finnegan. Avevano un figlio del nostro ordine. Il signor Johnson era furioso. Era un rischio, ma immaginavo che avreste abbandonato i confratelli. Colonnello, il manoscritto, perché ridarlo a me? Perché, signor Cormac, io mi fido di voi. È con voi e in mani sicure. Con rispetto, signore. Io sono un bersaglio ben più di voi. Signori, Casegowase vuole attaccare Albani. I suoi alleati minacciano un villaggio Oneida e le truppe francesi sono già nel nostro territorio. Potrei sempre rallentare i francesi e aiutare gli Oneida. Prepareremo la difesa ad Albani. Se vogliamo sconfiggere Casegowase e i suoi alleati, dovrò aiutare gli Oneida per vedere che fare con i francesi. Johnson ha servato polvere e munizioni. Sia benedetto. 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 Sia benedetto che non farò che prendere il bianco. No, 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 no. What the hell? Our might is unchallenged This whole continent is ours to take Grazie a tutti. 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 Come si entra in quella caverna? Grazie a tutti. Let me guess. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.